Il principe William ha aperto ufficialmente il Birmingham Nightingale Hospital durante una cerimonia tenuta via video. L'ospedale temporaneo, un centro covid, è stato costruito all'interno del centro delle esposizioni di Birmingham ed è uno dei diversi ospedali costruiti per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Gran Bretagna. L'edificio in cui vi trovate è l'ennesimo esempio di come le persone in tutto il paese si siano rese conto di questa sfida senza precedenti. Gli ospedali in Nightingale saranno giustamente considerati come punto di riferimento nella storia del Servizio Sanitario Nazionale e il Nightingale Hospital di Birmingham è un meraviglioso esempio di come la Gran Bretagna stia spingendo insieme verso questa direzione. E dopo aver parlato con alcune delle persone che hanno contribuito a costruirlo, gli ospedali riguardano le persone, non i mattoni. Il personale del Servizio Sanitario Nazionale, ha aggiunto William, le forze armate e il settore privato si sono fatti avanti collettivamente per trasformare questo centro espositivo in un ospedale. Questo rassicurerà la gente in tutto il Midlands che se i loro ospedali locali raggiungeranno la capacità massima ci saranno letti supplementari disponibili per i loro cari qui. Lo trovo molto confortante, ha concluso William, e so che anche molte altre persone lo faranno.